Sì, domani sera nel Consiglio saremo chiamati a discutere una variante urbanistica che consentirebbe di aumentare l'altezza massima dei capannoni da costruire nel porto di Fano per la cantieristica navale da 14 a 24 metri, che è l'equivalente di un edificio di 8 piani, per una lunghezza di una novantina di metri che è come più o meno un campo da calcio. In una zona con un grandissimo rilievo turistico della nostra città, appunto il porto nel versante che dà sulla Sassonia ed è appunto una costruzione che modificherebbe in maniera radicale lo skyline del nostro litorale. Questa decisione è stata calata dall'alto negli ultimi dieci giorni, non c'è stato un confronto con le forze politiche, tantomeno con gli operatori turistici, con le associazioni di categoria e un'altra criticità che abbiamo rilevato dalle carte è appunto il forte dubbio che il nostro porto sia adeguato dal punto di vista infrastrutturale per ospitare il varo e la movimentazione di grandi imbarcazioni come Maxi Yacht che si intende appunto realizzare in questi nuovi capannoni. La nostra richiesta domani sera sarà quindi quella di rinviare il voto di questa delibera in modo da acquisire tutte le informazioni e i dati necessari in maniera rapida appunto per assumere una decisione la più possibile ponderata. Ci ritroviamo più volte a criticare una mancanza di visione di città complessiva e anche questa vicenda del porto la conferma un provvedimento totalmente sganciato da una visione complessiva anche di una politica industriale per la nostra città in un comparto importante qual è appunto la cantieristica che si preoccupa solo di togliersi magari una patata bollente in un'area che per carità è bloccata da tanti anni senza però valutare bene, ponderare bene la sostenibilità del progetto, qual è l'impatto sia paesaggistico vista la zona e che insomma anche di viabilità che può avere un'attività di questo genere ma soprattutto per fare una previsione come dire massima per fare yacht di 85 metri quando la previsione attuale di 14 metri permetterebbe già la costruzione di yacht da 40-50 metri quindi fondamentalmente mi sembra una proposta affrettata, poco garantita, con poche garanzie insomma anche per i consiglieri comunali che si troveranno a votarla senza un piano industriale presentato, quindi frettolosa all'antivigilia di Natale che quindi mi fa nascere molte perplessità